Buonasera a tutti, io sono Domenico Agliotti, un giovane 54enne, sono nel 19-19o municipio insieme a Andrea Serini, quindi non voglio parlare bene del 19-19o perché ricci ha fatto Andrea. Sono entrato nel Movimento 5 Stelle, anzi prima negli amici di Pepe Villo qualche anno fa, passando prima attraverso un'altra associazione, non bruciamoci il futuro, chi si interessava di problematiche, di rifiuti, di scariche, inceneritori, quindi fare soprattutto informazione e formazione sul territorio. Conosciuto il Movimento 5 Stelle, gli amici di Pepe Grillo ho pensato che forse era l'unico modo per riuscire a superare quel senso di impotenza che penso che tutti noi abbiamo, penso anche i presenti abbiano la stessa sensazione. Ho cominciato a partecipare, ho fatto diverse cose, sinceramente non me le ricordo tutte, però ultimamente nell'anno scorso ho raccolto film per l'acqua, il referendum contro il nucleare, campagna soprattutto sul territorio, parlando con le persone e quindi mi hanno detto che è per figlio.